Sta succedendo in Italia e nessuno lo dice. Oggi parliamo di dati e c'è un dato pazzesco che è uscito ieri, venerdì, di cui nessuno sta parlando. E il dato è questo. Queste due linee dicono che il tasso di crescita del PIL in Italia non solo è positivo, ma è superiore alle aspettative. E allora, mind-blowing, improvvisamente capiamo che quello che pensavamo del mondo, dell'Italia, dei mercati finanziari è diverso. Questo è il potere dei dati. E i dati ovviamente si applicano anche al trading. Ah, se avrà mai senso comprare ai massimi? Non funziona, suona strano, non funziona. Usiamo i dati e allora scopriamo che comprare ai massimi della settimana potrebbe essere una buona idea su oro, su platino, potrebbe essere una buona idea su soia, potrebbe essere una buona idea su SP500. Non lo so. Testiamo perché i dati ci daranno riscontro e ci faranno vedere la verità. Benvenuti a tutti, signori, in questo nuovo video. Io sono Francesco Puzzi, faccio fino a 16.000 dollari in un mese, con poco capitale, leva finanziaria inferiore a 30 e senza trucchi magici. Per scoprire come? Link in descrizione. Benvenuti al Bats Monitor, l'appuntamento del sabato, in cui ci fermiamo e analizziamo come è andata la settimana sui mercati finanziari. In primo luogo vediamo il rilascio dei dati macroeconomici, se c'è qualcosa che ha mosso i mercati, qualche evento specifico che ha mosso i mercati. Poi andiamo a vedere future per future, l'andamento della settimana, come si è mosso il prezzo, perché, eccetera. E poi, detto tutto questo, ci manca una cosa. Sì, però i trading system hanno guadagnato o no? E allora vediamo alcuni dei miei trading system. Partiamo subito. Appunto, il primo dato, anzi forse l'unico dato veramente importante questa settimana è il tasso di crescita del PIL italiano, positivo ma anche superiore alle aspettative, visto che l'aspettativa quadrimestre su quadrimestre o trimestre su trimestre. Trimestre su trimestre era 0,3 invece è 0,5, anno su anno era 0,9 invece è 1,8. Ed è un dato importantissimo, è chiaro. Si sta parlando di economia, di PIL, non si sta parlando di mercati finanziari, ma è un dato incredibile, potentissimo. Ci sono poche cose, vogliamo dirla così, diciamola, poche cose positive che succedono in Italia e quando ce n'è una prendiamola e portiamocela a casa. Non l'avremmo mai saputo se non ci fossimo appoggiati ai dati. Altro dato interessante, ricordiamoci sempre, che l'inflazione in Italia è ancora alta, ma sta scendendo bene, non male. Per quanto riguarda i mercati finanziari, chiude molto positivo l'SP500 e nel 2023 il guadagno è del 7,57%. Sta sfiorando i massimi di questo mese. Ottima, ottima crescita. Chiude la settimana a 4188,50, una settimana molto positiva, molto performante. Per quanto riguarda il Nasdaq, che l'anno scorso aveva sofferto tantissimo, tocca i nuovi massimi del mese, dell'anno. 19,7% di profitto, veramente, veramente tanto. Una crescita veramente esplosiva. Faccio vedere poi l'indice VIX che tocca i minimi dell'anno a 15,77%. Quindi i mercati sono stabili, stanno bene, stanno crescendo bene e questo ce lo dicono i dati. Passaggio numero due, andiamo a vedere future per future. Come sta andando? Ah, beh, ovviamente per scoprire la natura, se conviene comprare o vendere un determinato strumento finanziario ai massimi e ai minimi della settimana, bisogna saper scrivere i codici, bisogna sapere come approcciare il trading automatico. Tutte le informazioni in descrizione. Questo è il primo passaggio del metodo scrocchiarello. Nel momento in cui si sa dove cercare questo vantaggio, cioè se conviene comprare o vendere ai massimi e ai minimi, gran parte del gioco è fatto. Future per future. Allora, a sinistra, in fondo, abbiamo il grafico daily, in mezzo al grafico a 30 minuti, con gli indicatori di volumi e di volatilità monetaria, cioè quanto si muove sostanzialmente, quanto si rischia. Dicevamo, l'SP500 chiude a 4190,75, l'ultimo prezzo battuto, sale, cresce molto bene, in modo molto esponenziale. Il martedì, che di solito è una giornata positiva, in realtà la chiude in modo molto negativo, con una barra molto profonda, molto direzionale, short. Poi, diciamo così, continua un pochettino con minor forza il mercoledì, e però giovedì e venerdì cresce fin dall'inizio, nel senso che di solito noi possiamo vedere un cambiamento della giornata, della distribuzione della giornata, dei prezzi della volatilità, della direzione, dall'apertura di Wall Street in poi, dalle nostre tre e mezza. In realtà, mercoledì ha iniziato a salire fin dall'apertura di sessione, quindi alle nostre, alla nostra mezzanotte, e ha continuato a salire fino alla fine della giornata. Secco, diretto, potente, e questa settimana si vede anche che ci sono poche ombre, c'è poca incertezza. lunedì si ha aperto in modo non particolarmente convinto, poi martedì e mercoledì è sceso in modo preciso, convinto, potente, poca incertezza, molta direzionalità, e come lo si vede, dalle ombre, cioè dalla differenza tra i massimi, l'apertura, l'ho chiusura, e i minimi, l'apertura, l'ho chiusura. E poi giovedì e venerdì è salito molto, molto forte, addirittura, con le ultime 2-3 mezz'ore molto, molto direzionali, molto potenti, molto sparati, quindi settimana di grande forza per l'SP500. Dicevamo anche il Nasdaq sale e sale bene, chiude la settimana a 13.325.75, massimo annuale, per l'SP500 l'abbiamo solo sfiorato, per il Nasdaq effettivamente c'è, anche qua grande dimostrazione di forza, tutto testimoniato da un indice VIX ai minimi dell'anno, 15.78, molta, molta debolezza. Ricordiamo che l'indice VIX traccia la volatilità basata sulla volatilità implicita dell'SP500, ma ci stiamo infilando in un ginepraio. Molto più incerto e debole il recente momento, l'ultima settimana del DAX che chiude a 16.070 senza particolare certezza. L'obbligazionario chiude positivo dopo una settimana di sali e scendi, per quanto riguarda Euro, classica settimana tipica di Euro, settimana laterale, anche decentemente volatile, un po' più del solito, ma laterale, è tipico una lateralità sulle valute. British Pound sale un pochettino, Franco-Svizzero scende un pochettino con molta volatilità e Japanese Yen scende parecchio. Per quanto riguarda Oro, scendiamo di nuovo sotto quota 2000 dollari, 1999.4, settimana poco direzionale, molto volatili. Noi vediamo daily, diverse barre in cui l'ombra è maggiore del corpo, del body. Questo vuol dire che il prezzo si è mosso tanto e poi è ritornato al punto di partenza. poca direzionalità, tanta volatilità. In questo caso, questa settimana, tra l'altro, i sistemi non ne hanno approfittato particolarmente tanto. Dopo andremo a vedere insieme. Per quanto riguarda, Crude Oil chiude a 76,63. Mercoledì c'è stato il dato delle scorte che l'ha portato giù a toccare un minimo di 74, 74 e poco più. Quindi chiude una settimana negativa, non clamorosamente negativa, ma negativa. Ricordiamoci che Crude Oil subisce ancora la scelta di OPEC più, cioè Arabia Saudita, Nigeria, Iraq, eccetera, più la Russia di tagliare la produzione. Quindi ha aumentato un pochettino il prezzo, poi è ritornato giù e di nuovo ai prezzi pre-decisione, ma la volatilità recente, i movimenti recenti non possono non tenere conto anche di quella cosa, non solo, ma anche di quella cosa. Per quanto riguarda il gas, settimana assolutamente tranquilla, 2.396, 198, scusa, il prezzo di chiusura tranne ieri. Probabilmente ci sono state le scorte, sono slittate tra giovedì e, da giovedì a venerdì, perché un movimento simile di, addirittura, no, 2.000, secondo me si è mostrato di più. Allora, ieri il massimo è stato 2.529 e lo 2.285. Quindi, 529 meno 285 fa 240 quasi, 2.400 erotti dollari di movimento importante, importante. Nella mezz'ora, addirittura in tre mezz'ora, per questo dico che probabilmente ieri ci sono state le scorte, figurati se le ho guardate, non me ne prego assolutamente niente in termini di trading system automatico, però 1.380 dollari ogni mezz'ora, per tre mezz'ora consecutive, grande movimento, ma poi il prezzo è rimasto lì. Per quanto riguarda soia, settimana short, chiude a 1.419 e un quarto, corn uguale, bella settimana short direzionale anche sul wheat, bella dire settimana short direzionale convinta. Live kettle e feeder kettle invece salgo, feeder kettle laterale, live kettle sale, sale abbastanza in modo direzionale, tranquillo, convinto, come l'inox, che chiude a 91.675, molto potente come settimana, molto direzionale, zucchero anche, sale, chiude a 26.37, succo d'arancia settimana interlocutoria, laterale, senza niente di particolare che avvenga, soprattutto sul succo d'arancia nel momento in cui non c'è un grande movimento, un grande strappo vuol dire che non succede nulla, caffè settimana short ma neanche di tanto, cotone settimana laterale e cacao settimana chiusa negativa ma sostanzialmente laterale. Per quanto riguarda il bitcoin, settimana abbastanza positiva, grandissima volatilità, chiude il future a 29.515, stiamo lì, stiamo lì, siamo intorno a quasi 30.000, si va sopra, si va sotto, non c'è una clamorosa convinzione, ma ripeto, questa mia sostanziale previsione, anche se non è una previsione va bene, ma c'è secondo me la possibilità che bitcoin salga quest'anno. Per quanto riguarda i miei trading system, abbiamo soia, crepsis, che prende bene il trend short su soia, chiude a più 2.000 dollari, il wheat con senica, anche questo, prende benissimo il trend short di questa settimana con un ottimo trade, c'è anche stardust che fa 4 trade consecutivi positivi, quindi 1.000 più 1.000 più 1.000 più 1.000 4.000 dollari, tutti i trade molto brevi, quindi poco rischiosi, poco margine, poche balle, è long adesso, quindi vediamo l'apertura di settimana prossima. Anche il Jim Fitz su soia prende profitto più 2.000 dollari questa settimana andando short e anche su pellettili fa un buon trade, non clamoroso, ma un buon trade, quindi granaglie sono andate in modo molto positivo. Ottima settimana su euro con un aghi che fa 2 profit target più 1.000 e più 1.000 è un sistema reversal Pivetta anche ancora sta veramente facendo delle buone performance quest'anno Pivetta più 4.000 dollari con un ottimo profit target short prendendo ottimamente il trend short più 3.000 dollari quest'anno più 34 l'anno scorso è in un buon stato di forma e anche il Tankian Rocky su natural gas 2 trade consecutivi 1.700 dollari in questa settimana strana su natural gas poi abbiamo anche Call of Duty che vi cito perché ha fatto 4 trade consecutivi positivi e sta performando bene ultimamente è un trading system forzato che cosa vuol dire? vuol dire che fa cose molto strane infatti va reversal va reversal su crude oil e gli ultimi 4 trades sono più 1.700 più 1.400 più 1.300 più 2.200 e quest'anno sta performando molto bene è partito con 7.930 dollari di profitto è veramente in un ottimo stato di forma ultimo ne ho tantissimi di trading system ovviamente ma non voglio stare qua 8 anni abbiamo il Duane su Australian Dollar che prende un ottimo profitto abbiamo ancora il Duane su Soia sempre per l'ottimo stato di forma delle granaglie e su crude oil abbiamo il Partagas con un ottimo trade short più 4.000 dollari quindi ottimo stato di forma dei miei trading system detto questo il Buzz Monitor è finito fatemi sapere che cosa ne pensate se sapevate queste notizie sull'Italia cosa ne pensate dei miei trading system che chiudono un'ottima settimana per approfondire come scrivo trading system come fare trading system imbattibili infallibili invincibili link in descrizione o numero verde 800 475 300 e niente io vi auguro uno splendido weekend piove va bene ma noi andiamo dritti al punto divertitevi state bene che sia meraviglioso e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao a tutti